E' una giornata stupenda per la gara tra lo Shell Top 4x4 e il Six Skates. Ehi ragazzi! Sono partiti. Con una piccola spinta il 4x4 prende il comando. Lo Shell è il primo a scansare i nemici. E' in casi come questi che la torretta spara raggi dei Tartos torna utile. Ma un momento, la gara si è fermata, le vetture sono in panne, è finita la gara? No, siamo senza benzina! Sono giochi preziosi. Ah beh, penso che finiremo la gara domani. C'è una festa sulla spiaggia per le tartarughe ninja. Ai Super Seerers verrà la coda verde. Ma mentre i Turtles pensano di poter giocare tranquilli, c'è già qualcuno pronto ad affrontarli. Ma basta una spruzzata e vuoi uno! Ragazzi, fantastico! I nuovi Speeding Turtles non hanno paura di nessuno. Basta prendere la mira per abbattere i nemici. Sono tutti pronti per te! Sono giochi preziosi. C'erano una volta quattro graziose tartarughine. Poi improvvisamente subirono una incredibile mutazione e diventarono ninja turtles. E poi c'era un dolce e affascinante cantante rock. Che tutto un tratto iniziò a cambiare e a mutare in modo frenetico. Oh cielo, guarda! Hanno deciso di giocare insieme. E naturalmente vissero per sempre felici e contetti. I Turtles Mutations sono trasformati da giochi preziosi. Ragazzi, una fantastica novità per voi. Tenete i piedi ben piantati a terra. Il nostro bombardiere a bolle fa cadere bombe fumogene a bolla. Boom! E' un jet davvero fantastico. Ed ecco l'incrociatore delle sabbie. Le torrette ruotano. Senti il rumore degli spari? Sono torrette per il fuoco rapido. Ragazzi, ricordate, i Turtles hanno sempre nuovi giochi per voi. Sono giochi preziosi. I Turtles stanno attaccando il tecnotromo. Dentro l'arsenale del Foot Clem vi sono il laboratorio di Clem e la sala di comando centrale di Shredder. Li hanno visti! Ora dovranno fare attenzione al radar occhio spia, alla fossa liquidificante, al portello posteriore chiodato. Oh no! Uno strapazza cervelli con manette mutanti. Ragazzi, che coraggio i Turtles! Mamma mia! Sono giochi preziosi. Sì ragazzi, è l'ora dei Turtles! Con l'orologio digitale Turtles ha 5 funzioni. Super mondo pizza! Ed eccovi i nuovi straordinari portachiavi Turtles. Gli orologi e i portachiavi Turtles sono giochi preziosi.